Salve a tutti cari amici, sono il ricercatore Emiliano Babilonia. Vi voglio invitare al nuovo Incontro Caffè Radio TV Web edizione speciale. Abbiamo cambiato la sala dell'evento per problemi tecnici. La nuova sala si trova sempre in zona San Lorenzo, vicino alla stazione Termini e vicino all'Università La Sapienza. E' una traversa di via Tiburtina, zona San Lorenzo, via dei Marruccini 1A, a fianco alla chiesa, 300 metri da piazzale del verano. Sabato 29 giugno 2019, dalle ore 16 alle ore 19.30, un evento da non perdere con ospiti importanti e testimonianze in esclusiva nazionale. Tematiche della serata, esperimenti su cave umane, controllo mentale, spionaggio della popolazione, spionaggio telefonico, spionaggio ereditati a web. Si parlerà di microchip, di identificatori a radiofrequenze, home the health, si parlerà di scie chimiche, progetto ARP, l'arma segreta invisibile della nuova frequenza 5G che devasta ovviamente i corpi delle persone, con un'esposizione molto prolungata, si parlerà di armi neuroniche, armi ad energia diretta, satelli di spia, inquinamento elettromagnetico e tanto altro. Ci saranno delle presentazioni di libri, gli ospiti parleranno delle loro denunce che hanno fatto per la tutela dell'ambiente, per la tutela dell'inquinamento elettromagnetico oppure per far abbattere l'inquinamento elettromagnetico in determinate aree dove ci sono praticamente bambini piccoli. Un evento con prenotazione invito obbligatorio tramite email, posti limitati di selezione all'entrata. L'email è informazione popolare radio tv web chiocciola gmail.com Contributo di partecipazione per gestione evento dalle ore 16 alle ore 19 e 30 di 10 euro. Questi 10 euro vengono sia utilizzate per la gestione dell'evento e quello che rimane viene dato in beneficenza, cioè viene messo all'interno di un salvadanaio per acquistare delle attrezzature tecniche e scientifiche, per fare delle analisi, per aiutare le persone che vengono sottoposte a queste radiazioni fortissime e per ovviamente fare delle analisi in tempo reale a casa di queste persone che subiscono queste radiazioni e queste gravi patologie proprio create da questi sistemi che interagiscono con i nostri centri nervosi, con il nostro cervello e che interagiscono con le nostre frequenze naturali. Quindi vi aspetto tutti cari amici, vi ricordo che la zona è San Lorenzo, via dei Maruccini 1A, un bellissimo locale, sembra proprio un appartamento, come il nome del locale. Perché deve essere il locale accogliente, il locale climatizzato, dopo ovviamente l'evento andremo sopra questa terrazza bellissima per degustare ovviamente questa pericena, bere un cocktail o una birra, tutti quanti insieme, e per continuare ovviamente il dopo serata, dopo evento, ovviamente faremo anche delle registrazioni, delle interviste, perché è una cosa bella e molto importante. Le persone ovviamente si devono divertire, devono imparare determinate cose, devono darci anche il loro sapere, le loro conoscenze, e noi poi diamo delle risposte tecniche e scientifiche che devono convalidare le varie teorie che noi studiamo da anni. Quindi vi aspetto cari amici, sabato 29, a questo evento molto importante, a Roma, quartiere San Lorenzo. Un saluto a tutti amici, da ricercatore Emiliano Babilonia.